Come si tratta di Bionde e Mozzafiato? che nella sostanza se vogliamo è la stessa cosa ma la stessa cosa detta e raccontata in maniera diversa può cogliere l'attenzione di persone diverse o può essere complementare ad altre tipologie di linguaggio. Detto questo le immagini proposte che ovviamente sarebbero nulla senza le informazioni scientifiche che poi arrivano allo spettatore, le immagini sono un po' a 360 gradi su tanti aspetti legati al tabaggismo e alla lotta al tabaggismo proprio perché abbiamo voluto accogliere le motivazioni del fumatore perché ne ha di motivazione a fumare, vuoi perché la sigaretta aiuta a gestire lo stress, può aiutare i momenti conviviali, a livello sociale ha un suo perché, ci sono sempre stati tanti luoghi comuni su questo ma quello che abbiamo voluto fare noi è accogliere questi temi ricordando allo spettatore qual è il prezzo che comunque va pagato per questa cosa come per qualunque altra cosa. Quindi non terrorismo ma semplicemente consapevolezza per fare la scelta speriamo più idonea per la salute delle persone.